Ciao, sono un po' di agitazione perché stamattina alla Malpensa di Milano è arrivato l'aereo che portava di ritorno il Dante Gross e il dottor Frendolo che vede ritorno dalle Olimpiadi Invernali che gli ha fatto a Sochi. Allora mi sono messo la faccia da sindaco perché questa settimana ci sono le elezioni comunali, quindi in comune non c'è nessuno che comanda e mi ha detto comandati quei due minuti qua, almeno che ci sia qualcuno che gli aspetta quando i vedi ritorno. Ho telefonato in giro, tu ti occupai, ancora non c'è nessuno che va so a Torli Ora ho chiamato Vinicio, la settimana che io, la settimana che vede il presento anche, lei e Vinicio e mi ha detto, guarda, siccome fa il turno del Norte, Goten mi deve andare a Malpensa Torli Ora le partite già con il suo meso, il meso proprio elaborato, no? E lei è andato a Malpensa Torli Ormai dovrebbe essere chi che gli arriva. Guarda, guarda, sento, sento, il suona il classo dal Defora. Vado a vedere, vado a vedere che gli arriva, dovrebbe essere chi da Defora Ecco arrivati finalmente il tornaio di ritorno dalle Olimpiadi, però fermate, allora prima di tu vi presento e soffermi, lei della ventaglio viaggi, lei della zocca viaggi, e questi due che guarda, questi non sono più in Cina, basta, si, gli amparà, gli amparà a fare il curling, curling, guarda, guarda che due, il curling, proprio che bravi, 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 che medaglia avevi vinto nel curling? Argento, medaglia, medaglia, verrà già una carica di sbella voi altri due, vi dicio complimenti, però io mi dico che chi ci torna in Italia che avrà dei problemi, con i pesi, in curva, come sta, com'è? La sempluna, la sempluna, dica a lui com'è che ti hai fatto? Sempluna, sì. Buon, allora, per fortuna il video ritorno, adesso nella semca vada, basta, mi auguro che non vi iscrivetevi... Signor Sindaco, ti raccomando... Grazie. Ti raccomando a Chiati. Allora, una roba da sicura, iscrivete ancora a Vinicio? Eh, si fa in bravi. Eh no, la prossima volta vi garantisco che sarà una serata tutta insieme a mio amico Vinicio, perché lei è mentore, è quel che mi dico ora se deve fare. Dà un bacino al Mario qua. Grazie. La telegarda, torna in studio adesso perché questi non i bei li va a dormire perché li è stracchi. E' cotti. Uno l'è cotta. E quegli altri gli ha fatto il viaggio, non ti puoi neanche immaginate. Allora, vi saluto, mi vago in studio. Ciao. Carling. Buon, allora, torna in mio studio. Però il Dante Gross, il dottor Frendolo e il Vinicio non li è chi con sé mamma, li ha detto che vinerà nei stiti di chi perché li erano talmente stracchi dal viaggio, li ha detto che andiamo a casa a pocciare. Ora vedo due notizioni brevi, brevi, però importanti. Una è di alta politica. Proprio alta politica che probabilmente farà scardinare i risultati delle elezioni comunali che è questa settimana qua. Allora, a Bologna, in questi di qua, il PD di Arco la fa una partita di calcetto contro il PD di Trent. Bella roba, eh? E il Madrid, il Madrid uno sulle banchette l'altro di, che sarà Berlinguer che si è svolto nella tomba. Dio queste robe qua. L'altra invece, domenica passata è finito il carneval. È finito il carneval e volerà tranquillizzare un po' tutti, no? I cari di una volta, i cari... Beh, tranquillizzo. Vada sicuro di sicuro. I cari di domenica passata erano quei di adesso. Non erano i cari di una volta, ma proprio, veramente, got testimonianze che erano i cari di adesso. Noi abbiamo fatto anche una roba... Ne pareva una roba intelligente. Abbiamo assegnato l'Arco d'Argento al pubblico. Una roba diversa al pubblico. Tanto più che il Cornelio Gallas, no? E il Matti ha telefonato, mi ha detto, bravi, questa kill è una genialata. Mi ha detto, grazie Cornelio. Però, pensando che bene, gli unici che non la capiva la mia genialata, le sta qui che scrive sul Trentino e sull'Adige. Ma quello, dai, cosa vuoi che dica qui? E io ancora dirò che gli pensa, no? Al manifesto del carneval, dove ero su con la mamma così... Io dirò ancora che gli pensa, se la mamma alzata che avevo, no? L'era quella di fare il saluto fascista. Oppure se l'era ordinare cinque bicieri al perosoco che era sommesso alla piazza. A voi l'ardua sentenza. Da Telegarda Trentino, arrivederci alla prossima. Col Beppi Paia, Dottor Frendolo e il Vinicio. Grazie. 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 Grazie a tutti.